La certezza è che il 30 giugno terminerà l'attività del Grande Albergo Roma. La decisione è stata ribadita dai gestori questa mattina nell'incontro con i sindacati e il rappresentante dei 22 lavoratori della storica attività del centro di Piacenza. È stato un incontro interlocutorio, ha spiegato Vincenzo Guerriero di Will Tux, nel quale i gestori hanno confermato l'accessazione dell'attività e l'apertura della procedura di mobilità per tutto il personale. I lavoratori di questa realtà non hanno diritto a nessun tipo di ammortizzatore sociale. Siamo in una fase in cui purtroppo non c'è niente di certo, solo che al 30 chiude l'Albergo Roma dopo 40 anni di storia. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità al lavoro. Auspichiamo che si possa mantenere questa attività in centro, aggiungono Fiorenzo Molinari della Filcams CGL e Francesca Benedetti di Fisaskat CISL. Tutte le nostre forze saranno concentrate nel mantenere viva questa realtà. Noi vorremmo che ci fosse un imprenditore che si prendesse questo tipo di responsabilità. Per il prestigio della città, per il valore, diciamo il valore anche affettivo che la città di Piacenza ha nei confronti dell'Otel Roma, ma soprattutto l'obiettivo per noi che siamo sindacati è quello di salvaguardare il posto di lavoro e dare una prospettiva occupazionale a queste persone che da anni hanno delle anzianità altissime, si occupano della cura dell'Otel Roma. Il 25 febbraio è in calendario l'incontro tra i sindacati e l'Assemblea dei Laboratori.